Musica Benvenuti al TG10, c'è oggi la pagina della cronaca nera in apertura del telegiornale vi riferiamo di un tentativo di furto commesso la scorsa notte a Gela ai danni di una geleria dal centro storico mani ignote hanno utilizzato la fiamma sidrica alimentata da alcune bombole l'azione malavitosa non è andata fortunatamente a buon fine sgomento da parte del titolare dell'attività commerciale vediamo hanno tentato di introdursi in una giureria di viecheroli nei pressi della chiesa del Carmine a Gela utilizzando la fiamma sidrica alimentata da alcune bombole al fine di scardinare la saginesca ma qualcosa non ha funzionato e alla fine hanno desistito e quanto accaduto la scorsa notte l'attività presa di mira appartiene al commerciante Rosario Gueli l'azione malavitosa si è registrata intorno alle tre sul posto si sono portati i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno messo in sicurezza le bombole e i carabinieri del reparto territoriale agli ordini del maggiore Antonio De Rosa che hanno avviato indagini febbrili requisite le immagini registrate da alcune delle camere collocate nella zona sconvolto per l'accaduto il proprietario del locale io stamattina ho aperto e ho trovato qua una macchia tutto bruciato con un cannello e un giravite dentro la busta ho levato questo ho trovato c'è il blocco della saginesca leggermente tagliato, pizzicato dal cannello lei come legge quello che è accaduto, l'episodio? non lo so, non lo posso commentare perché io stamattina sono arrivato e ho detto ho trovato quella macchia e un cannello là poi aprendo la saginesca e ho accorto che c'è il blocco leggermente pizzicato dalla fiamma però i residenti della zona cosa le hanno riferito in merito a quello che è accaduto? niente, hanno sentito soltanto i pompieri e i carabinieri cioè basta, non sanno niente la vedo molto preoccupata vorrei che farebbe? ma si riesce a commercializzare a Gela in merito a quello che sta accadendo? no, no già siamo fermi perché non si sta facendo niente in bio, non lo so è una situazione drammatica per tutti voi? ha maggior ragione in merito a quello che è accaduto? no, io non ho fatto niente non chiedo niente io sto là, faccio il mio lavoro e basta e con quale spirito riesce a fare questo lavoro? ora non lo so perché è la prima volta che non succede una cosa del genere intanto la polizia nell'ambito di un'attività anticrimine ha arrestato due persone denunciandone tre e controllando numerosi soggetti 257 persone controllate 109 veicoli passati a Regi X 15 soggetti a domiciliari 27 sul viati speciali e 9 in libertà vigilata esaminati elevate 30 verbali al codice della strada due gli arresti e tre le denunce e il bilancio conseguito dalla polizia della locale commissariato diretto da Francesco Marino nell'ambito di un'attività anticrimine di polizia giudiziaria e amministrativa con l'ausilio di quattro pattuglie del nucleo prevenzione crimine di Palermo Manette per Rocco Cavaleri 41 anni l'uomo è stato posto a domiciliari in esecuzione ad un ordine emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela deve scontare 5 mesi e 28 giorni per un furto commesso a Caltanissetta il 22 ottobre del 2012 destinatario di un altro palvedimento restrittivo è il 39enne Rocco Graziano Argetta la misura è stata emessa dalla procura della Repubblica di Ragusa in carcere dovrà espiare un anno 3 mesi e 16 giorni per essere stato ritenuto colpevole dei reati di rapina lesione personale aggravata e ricettazione in concorso con altri commessi a Vittoria nel novembre del 2013 un gelese di 32 anni dovrà rispondere dall'incendio di un'auto avvenuto lo scorso mese in città detenzione di suoi facenti è invece l'accusa mossa ad un ragazzo di 19 anni durante un controllo su strada è stato trovato in possesso di 8,6 grammi di hashish un cittadino rumeno di 52 anni residente a Gela è stato segnalato per ricettazione era in possesso di oggetti e documenti di provenienza furtiva nell'ambito degli specifici servizi l'ufficio della polizia amministrativa e sociale ha effettuato controlli ai locali di intrattenimento del lungomare e del centro storico 3 le attività commerciali ispezionate 2 le infrazioni contestate e 29 le persone controllate cambiamo argomento entro il prossimo 30 novembre al comune di Gela le famiglie che versano in particolari condizioni economiche possono presentare una richiesta per accedere al contributo per fornitura idrica a favore delle cosiddette utenze deboli lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali di Cia Bela hanno diritto all'agevolazione i nuclei familiari che hanno fino a tre figli a carico con una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 7.500 euro o le famiglie con oltre tre figli a carico ed una certificazione ISEE con valore dell'indicatore fino a 20.000 euro sono esclusi dal contributo i morosi che non provvedano a regolarizzare la propria posizione o le utenze che già usufruiscono della tariffa giurata riservata ai pensionati modelli e modalità di presentazione dell'istanza sono disponibili negli uffici della segretaria sociale in Viale Mediterraneo o sul sito internet del Comune di Gela una consulta giovanile come strumento di raccordo tra le istituzioni locali e la popolazione giovanile oltre che come efficace metodo per avvicinare i giovani cittadini agli avvenimenti politici che caratterizzano la città la proposta è stata presentata al Consiglio Comunale di Gela dalla associazione fronte giovanile movimento giovanile di destra in movimento uno strumento che comunque sia di aiuto per l'amministrazione soprattutto per quanto riguarda i temi di tipo giovanile può essere da supporto appunto per alcune funzioni di tipo turistico può essere da supporto appunto per alcuni casi di disagio sociale tramite la promozione dell'associazione di volontariato e quindi appunto i progetti volontariato come sportelli d'ascolto o giornate a tema appunto e poi appunto la promozione come progetti ad esempio di tornei di tipo sportivo che coinvolgano tutte le scuole comunque un utilizzo migliore del tempo libero per quanto riguarda i giovani abbiamo convolto sia il Consiglio Comunale sia il Presidente del Consiglio Comunale quindi è stata presentata a due organi e anche all'assessorato delle politiche sociali e dell'istruzione tramite questa proposta diciamo che si può semplificare l'avvicinamento tra cittadino e istituzione quindi diciamo che il rapporto verrà semplificato e quindi i giovani saranno portavoce della propria del proprio dissenso della propria denuncia e della propria parola L'obiettivo che il fronte giovanile si prefigge dunque è quello di fornire ai giovani strumenti per il dialogo con le istituzioni Sarà una consulta che coinvolgerà tutte le fazioni politiche che vorranno farne parte a livello giovanile Si può aderire qualsiasi associazione studentesca di cui possono entrare a far parte due delegati di questa associazione e dovranno presentare lo statuto alla presidenza della consulta giovanile e quindi da qui si possono scegliere i candidati in base all'attività che svolgono possono anche entrare a far parte associazioni di volontariato associazioni politico-culturale quindi diciamo un po' di tutto e non c'è colore politico perché l'interesse è quello della collettività Inaugrazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Uni 3 di Gela presieduta da Angela Scaglione Altamore si terrà sabato 5 novembre alle 17.30 presso l'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela Saranno presenti tra gli altri Aldo Cibona il dirigente scolastico Giacchino Pellitteri e l'assessore comunale Francesco Salinitro e adesso parliamo dell'incontro di Risera nei locali della protezione civile Procivis di Gela conosci, rispetta e vivi il tuo territorio il rischio perché è stato il tema di battuto di Risera nei locali della protezione civile Procivis di via Ossidiana a Gela dinanzi ad una folta rappresentanza di allievi e volontari alla conferenza ha preso parte il geologo Salvatore Saia funzionario di protezione civile della Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si è parlato dei rischi territoriali idrogeologici sismici e industriali e delle competenze che interessano il mondo del volontariato a volte ci ricordiamo della protezione civile proprio quando ci sono eventi tragici purtroppo e grazie riusciamo a rendere attuale sempre questa problematica grazie anche ad associazioni come la Procivis e le altre associazioni di volontariato che sono presenti sul territorio e ci ricordano in ogni momento che i rischi sono incompenti che il nostro territorio è fortemente esposto non solo dal rischio sismico per come stiamo vedendo in questi giorni ma anche il rischio idrogeologico il rischio ingentite nel periodo estivo e non solo e altre tipologie di rischi minori che consideriamo minori non ultimo anche l'assistenza che andiamo a produrre con gli immigrati purtroppo questi popoli che sono così sfortunati rispetto a noi e che cerchiamo di aiutare e la responsabile della Procivis di Gela Luca Cattuti la Procivis rappresenta questo strumento di formazione e di informazione cittadina come potete ben vedere è come è piaciuto proprio il messaggio una sala congressi proprio gremita di giovani che vogliono conoscere al meglio il rischio cittadino è importante perché fare protezione civile significa fare informazione se l'informazione va fatta quotidianamente e con impegno con lo stesso impegno che i volontari della Procivis in questi anni hanno messo in campo a livello sia cittadino che fuori cittadino anche nell'emergenza l'impegno vuole essere proprio l'elemento fondamentale in questo e noi siamo contenti di poter portare avanti questo nostro impegno sociale ma soprattutto dare testimonianza che una realtà come la Procivis una pubblica assistenza di questa città riesce a dare e a portare un messaggio importante ai cittadini e in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro passa il bilancio ma passa anche il sospetto di inciuci tra l'amministrazione senza partito di Messinese ed una frangia sparsa di consiglieri di destra sinistra centro e liste civiche insomma una babele di consensi che permette al consiglio stesso di sopravvivere e l'argomento di apertura del giornale in prima pagina la rubrica di Giulio Cordaro politicamente scorretto presi di mira stavolta i disonorevoli con riferimento ai deputati regionali che continuano a fare pasticci sulla legge di riforma delle ex province per la serie donne in politica Zaira Placenti questa settimana intervista la consigliera comunale di Polo Civico Popolare Sandra Bennici in prima anche il richiamo di un'intervista a Giovanni Salsetta manager e membro del direttivo di Lega Coppa Sicilia e dell'associazione anti-racket di Gela Salsetta si cimenta nella difficile impresa di come fare impresa in questo periodo di crisi all'interno altri articoli di attualità e cultura le aste giudiziarie e lo sport con i servizi sul gelacalcio di razio a comando e sul Terra Nova di Zaira Placenti in ultima come sempre la pagina degli annunci economici gratuiti ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci in seconda parte del telegiornale sarà presentato venerdì 4 novembre alle 17 nell'aula magna del liceo classico Eschilo di Gela il libro L'isola più bella di Calogero Miciche l'iniziativa è dello stesso istituto scolastico dell'archeoclub d'Italia e della libreria Mondadori Giuseppe Alessi un avvocato nisseno che ha fatto la storia grazie al suo impegno il 19 giugno del 1948 fu inaugurata la Corte d'Appello da quella data infatti Caltanissetta che sino ad allora aveva avuto una sezione distaccata dipendente amministrativamente dalla Corte d'Appello di Palermo divenne autonoma da allora è nata la storia più bella della Corte d'Appello e proprio oggi che si parla della sua probabile abolizione questa intitolazione si deve interpretare come un segnale forte queste le parole del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale durante la cerimonia svoltasi nell'Aula Magna Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia per l'intitolazione dell'Aula di Corte d'Assise del Tribunale all'Avvocato Giuseppe Alessi membro della consulta regionale per la compilazione dello statuto della Regione Siciliana e primo Presidente della Regione morto a 103 anni nel 2009 un'intitolazione voluta dalla Corte d'Appello e dall'Ordine degli Avvocati L'Avvocato Giuseppe Alessi intestando l'Aula della Corte d'Assise su gentile concessione del Presidente e Sua Eccellenza il Presidente della Corte d'Appello e quindi ricorderemo negli anni a venire un grande Avvocato un illustre Avvocato che ci ha dato prestigio alla classe dentro e fuori queste Aule ho tracciato ho ricordato il profilo dell'oratore del grandissimo oratore il grandissimo Avvocato uomo estremamente corretto e integerrimo e anche del grande politico che innegabilmente ha influenzato l'ultimo secolo della storia siciliana in maniera decisiva in maniera autorevole la Sicilia è autonoma grazie soprattutto a lui e a pochi altri noi siamo davvero felici ed è un riconoscimento bellissimo per noi Avvocati noi ci identifichiamo oggi in lui e ci sentiamo davvero siamo davvero fieri di questo di questo di questo riconoscimento A ricordare la figura dell'Avvocato Alessi in un'aula gremita di presenti tra gli altri oltre il senatore Antonio Macaluso e l'Avvocato Michele Lupo anche il nipote Carlo Alessi lo zio ha dato lustro alla nostra famiglia è stato primo presidente della regione siciliana redattore dello statuto fondatore della democrazia cristiana presidente dell'istituto Treccani poi con una vita politica intensa senatore onorevole alla Camera dei Deputati ma soprattutto avvocato questo è il motivo della intitolazione vi ricordiamo che stanotte torna l'ora solare le lancette andranno spostate all'indietro si perde un'ora di luce ma si guadagna in sonno nella notte dunque tra oggi e domani esattamente alle tre l'orologio andrà spostato diventeranno automaticamente le due e ora apriamo la pagina dello sport calcio trasferta domani per il Gela i biancazzurri saranno di scena a fratta maggiore l'attaccante Nassi promette un gol pesante otto punti in quattro partite in trasferta frutto di due vittorie e di altrettanti pareggi fuori dalle muramiche il Gela è un espresso e all'orizzonte c'è un'altra gara da vincere a tutti i costi domani i ragazzi allenati dal tecnico Pietro Infantino saranno di scena in campania contro la frattese impegno arduo ma non impossibile assolutamente i campani in classifica hanno un distacco di tre punti nei confronti dei biancazzurri dunque faranno di tutto per annullare il gap che li divide dai gelesi ma il Gela vuole e deve proseguire nella sua imbattibilità in trasferta affrontiamo una gara difficile una squadra che all'inizio del campionato per gli addetti lavori è la prendente a vincere il campionato stesso un organico importante noi da parte nostra andremo lì a fare la nostra partita come abbiamo fatto fino adesso e cercare di portare a casa punti importanti quando il Gela gioca in trasferta riesce a raccogliere punti importanti in casa soprattutto nelle ultime partite soltanto un punto perché purtroppo in casa come vedete tutti abbiamo delle difficoltà oggettive perché l'avversario viene a Gela per difendersi rinuncia completamente a giocare chiude gli spazi ed è complicato se non riesci a sbloccare la partita cosa che purtroppo nelle ultime gare interne non siamo riusciti a fare Gela che può puntare a cosa? No, il Gela deve fare un campionato importante giocando a calcio e poi vedremo quello che riusciremo a fare sicuramente sarebbe riduttivo dire che dobbiamo solo salvarci perché Gela come come Blasone come piazza come tifoseria merita quantomeno un campionato importante adesso i numeri non possiamo decifrarli adesso vedremo vedremo già a dicembre cosa abbiamo fatto e cosa saremo in grado di fare fino alla fine del campionato Solo una rete finora per l'attaccante Maurizio Nassi realizzata a Gragnano pochissimo per quella che è definita una vera e propria macchina da gol La macchina da gol non si è inceppata purtroppo ci sono delle difficoltà perché giochiamo in maniera diversa ho pochissime fino adesso ho avuto poche palle gol qualcuna per sfortuna qualcuna nell'esecuzione l'ho sbagliata però non credo di avere fino adesso avuto tantissime palle gol sicuramente sto lavorando e stiamo lavorando per cercare di migliorare di migliorare sottoporta ma di migliorare soprattutto il gioche e creare occasioni occasioni limpide ricominciamo da domani ma io spero proprio di sì perché ovviamente io faccio l'attaccante a me il gol manca sinceramente sto male un gol solo non mi era mai successo in tutte queste giorni di campionato quindi già da domani io vorrei vorrei poter proseguire quello che so fare cioè il gol è magari un gol pesante e nel campionato di eccellenza il terreno a Gela domani a presti ospiterà il Licata allenato dall'ex Simone Pardo una partita che richiamerà la presenza di numerosi spettatori tanti dei quali arriveranno dalla cittadina agrigentina i gelorossi del tecnico Natale Serafino si presenteranno all'appuntamento forti dei quattro punti ottenuti nelle ultime due giornate l'associazione italiana arbitri indice il corso nazionale per arbitri di calcio per la stagione sportiva 2016-2017 le iscrizioni dovranno essere accolte tramite le 211 sezioni dislocate sul territorio nazionale entro e non oltre il 31 ottobre per la provincia di Caltanissetta saranno organizzati due corsi di cui uno a Gela promosso dalla referente Aia Riccardo Zagalini per informazioni ci sono due numeri telefonici 0933 91 11 09 e 338 45 96071 la pagina dello spettacolo appuntamento col cinema all'antitoto di Gela e in proiezione il film Lettere da Berlino sono due gli orari 19.30 e 21.30 ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale all'antitoto il cartellone comincerà il prossimo 23 novembre l'abbonamento costa intero costa 70 euro 55 euro per ridotto per i giovani anche in questo caso ci sono tre numeri telefonici 338 7143 293 330 225 442 0933 82 2707 e nuova stagione teatrale anche all'Eschilo dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione per informazioni recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 anche in questo caso vi diamo due numeri telefonici 0933 91 18 92 e 345 58 80 580 il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro abbiamo concluso anche per oggi vi auguriamo un buon fine settimana appuntamento alle prossime edizioni a l'abbonamento a l'abbonamento a l'abbonamento a Grazie per la visione!